Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati a giocare col sesto episodio di Brawl Stars Siamo ancora sul pistolero pazzo, io sto registrando subito dopo il video che avete visto ieri Quindi se mi avete lasciato dei nick o dei soprannomi per i vari personaggi non li ho ancora letti Però ve lo ricordo di scrivermi nei commenti, se avete dei soprannomi per i nostri personaggi scrivetemelo Io ricordo che alcuni li abbiamo chiamati con Niki e l'orso Yogi, Colt è il pistolero pazzo, Poucho è il messicano pazzo No, Colt è il pistolero, Poucho è il messicano pazzo e scegli il Super Saiyan, perché con questi capelli viola sembra molto un Super Saiyan Detto questo, signori miei, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che vi state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni trovate il link per poterlo fare in descrizione Anche i link dei social li trovate in descrizione Detto questo, partiamo con il video Ok ragazzoli, allora, noi siamo a 238 punti per il prossimo pass E giochiamo ancora con il nostro pistolero Con pistola veloce Ancora con una ferra a gemme Vediamo se riusciamo a farlo salire di grado il nostro amico E poi vediamo di tornare con il nostro Super Saiyan Shelly Per andarci a fare un sopravvivenza Così almeno cambiamo un attimino Intanto vediamo di riportarci a casa questa partita Quella è mia, zio Molla la gemma, molla la gemma zio Devi mollare la gemma È inutile che scappi, devi mollare la gemma No, mi ha ammazzato No, l'ho ammazzato io Dai, 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 recupera la gemma Recupera, recupera, recupera Bravo il nostro colt Il nostro pistolero pazzo Ok, ok Qui ce ne sta un altro che deve morire pure male Ok, siamo in vantaggio con le gemme Cortesemente evitiamo di morire male Mi sarebbe una cosa molto gradita Recuperiamo un poco di vita È morto? Sì, è morto Bello Siamo a 6-0 di gemme, raga Niente male, niente male Mi piace Questa squadra sta andando bene Questa squadra sta andando benemente bene Abbiamo solamente due gemme però No, è morto il nostro compagno con le gemme Mannaggia lui E siamo morti anche noi Perfetto Eravamo in vantaggio di gemme Le abbiamo perse tutte Siamo 5 gemme a 2 5 gemme a 2 Ce la possiamo fare 6 gemme a 3 Porca paletta ambriaca Ce la dobbiamo fare Dai, 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 dai Fammi recuperare quelle gemme Dai, dai, dai Ok Uh, con della rovescia Chi è che ha preso tutte le gemme? Andate, bene, andate Raga Vi difendo io, vi difendo io Vi difendo io, vi difendo io Porca miseria Sono morto Mi difendo io e sono morto malissimo Dai, dai, dai Recupera vita, recupera vita, recupera vita Dai, dai, dai 4, 3, 2, 1 È finita Bella così Partiamo alla grande, signori miei Partenza alla grande Subito una vittoria Il migliore è Lazzo Con Super Saiyan Con la nostra Scegli Super Saiyan Oh, finalmente Colt sarà a grado 2 Buono così Buono così Prendiamo tanti bei punticini Evento oggettoni doppi Tutto quello che vuoi Va bene Vediamo se riusciamo A sbloccare un Unpass No, per due punti E per qualcosa Non riusciamo anche a sbloccare Là sopra le coppe Va bene Andiamo a... Ah, devo fare l'altra modalità Va bene, la facciamo dopo Con Scegli La facciamo dopo con Scegli Dai, 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 dai Dai, dai, dai Dai, dai, dai Recorriamo le gemme Recorriamo le gemme Stanno... Quello è volato Come ha fatto volare quello? I personaggi volano Non sapevo che personaggio Questo che ti ha... Le... Le cose mi danno un fastidio Che voi non potete nemmeno immaginare Devo morire Devo morire male Devo morire... No, sono morto io Ma porca Ero in vantaggio Raga Perché sono morto io? Quanto stiamo? 4 gemma 0 Questa cosa non è per niente buona 4 gemma 0 Questa cosa non è per niente buona 4 gemma 1 Vedo tanto acido Che non dovrebbe farmi del male Dai, 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 dai Ok 3 gemma 2 Recupero questa Ok Dai, ok Abbiamo recuperato un po' di gemme Abbiamo anche un po' di vita Questo qua è morto Vado a recuperarmi queste gemme di qua Dai, è così Ok Siamo 6 gemma 0 6 gemma 2 Io mi vado un attimino a nascondere Signori miei Così recupero un po' di vita Dai, 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 dai Recuperiamo un po' di vita Ok Torniamo alla carica Torniamo alla carica Ci sono delle gemme perse lungo la strada Potete morire male Potete morire male Siamo messi malissimo raga Ma porca miseria Siamo morti Ci hanno fregato tutte le gemme raga Ma porca miseria Ci hanno fregato tutte le gemme Partite contro la rovescia Dobbiamo ammazzare quello che c'ha Tutte le gemme No, no, no L'orso Yogi no L'orso Yogi cortesemente no Grazie Dobbiamo semplicemente uccidere Quello che c'ha tutte e quante le gemme Che sta qua Sta qua Ti ho visto No, partita è conclusa Ma porca Abbiamo perso 13 a 0 raga 13 a 0 è terribile 13 a 0 è veramente terribile Non abbiamo preso nessuna coppa Perfetto Bella così Complimenti al nostro Pistolero pazzo Abbiamo raggiunto il pass Andiamo ad aprire il pass raga Ah, solamente 50 monete d'oro Che porcata terribile Io volevo la cassa enorme Non volevo il pass Allora raga Io devo ottenere le coppe Quindi andiamoci a prendere Shelly Il nostro Super Saiyan E andiamo a giocare con la Raffa Gemme Signori miei Con Shelly non può nessuno raga Con Shelly non può nessuno Dai Shelly mia Dai Shelly mia Dai 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 Guarda già come parte carica Guarda già come parte... No, no, non hai capito niente All'ottatore del sumo Del wrestling Non hai capito niente Quella gemma è mia Me la devo in un lato Dove stai? Dove stai? No, sono morto io Va bene, va bene L'importante è che abbiamo regolato le gemme Recuperare le gemme Ok Siamo due a due Va bene, va bene Due gemme a due Perché questi non si uccidono? Ok Tre gemme a due Va bene così Va bene così Siamo qui al centro Siamo qui al centro Recuperiamo le gemme Recuperiamo le gemme Ai, ai Ai, ai, ai Bastardo Ma loro possono fare tutte le mostre wrestling che vogliono Io scappo con l'orso che mi insegue Scappo dall'orso che mi insegue Questa cosa non è bellissima Scappo dall'orso che mi insegue Ho solamente tre gemme Dai, dai, dai Recuperla Recuperla Bella così Quattro gemme a quattro Quattro gemme a quattro Devi morire Devi morire No, 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 no Fermi tutti Stanno vincendo loro cinque gemme a quattro E io non ho più vita Io non ho più vita Devo recuperare vita Devo recuperare vita Recupero anche questa gemma Bello Guardala, sono morti tutti Recupera, recupera, recupera Bello così Nove gemme Nove gemme per noi Aspetta che prendo la diecima e me ne vado Aspetta che prendo la diecima e me ne vado Ok, partita conclusa No, 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 no Li sono andato proprio in faccia Non posso morire Non posso morire Non posso morire Ho otto gemme Ho otto gemme Non posso morire Ho otto gemme Non posso morire Dai, dai, dai Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Mamma mia che vittoria Raga, bella così Bella così La nostra Scelli non tradisce mai La nostra Scelli E siamo stati anche i migliori Bella così Otto coppe Bella così Bella così Miri che Scelli Che sta addirittura Quattro Di lì Che non so cosa sia Non l'esperienza Tanti bellissimi teschi per noi Ok, dovremmo aver raggiunto anche le coppe Cento coppe Possiamo andare ad aprire Forse qualcosa di qui Non ne ho più Per l'idea, sì Ah, questo è per Otteniamo Ah, doppie gettoni Nuovo obiettivo Ok Va bene Ragazzoli Detto questo Io mi fermo qui So perfettamente che c'è il doppie gettoni Me lo farò off camera Così andrò un attimino avanti Oppure registrerò il terzo episodio Per la prossima giornata Detto questo ragazzoli Vi ringrazio Vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao